Allora signori, è giù dal momento dei sentimentalismi ma quelli fatti dal cuore più puro. La Mambo Giambi e Kif, che sono degno di rappresentare in questa Summer 2014 qui al Rizia Continental, si augura insieme a tutti voi che si possano desiderare e soprattutto avverare le cose più belle che avete scritto perché non sono pensato. Signore e signori, buon ferro agosto a tutti e che i vostri desideri arrivano in alzo per poi ricadere giù ad avverarsi. La Angela Mambo Giambi e Kif, il vostro lupo a voi tutti, lasciate partire questi palloncini. La Mambo Giambi e Kif, il vostro lupo a voi tutti. Alessandro, Pietro Paolo, Mirko, dai tutti. Grazie a tutti.